Ciao a tutti Lemori e benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa sono stato al mercato di Monti Chiavi. Il mercato del venerdì, così chiamato. Devo dire che ci sono stati molti animali da portare. Per esempio l'anno 3, Cochette, Quaraone, Quaglie, Gardino Guaiore, Giornesi, Di Bello, Bello c'erano l'Aleoli Becker e l'Araucano. In realtà ci sono andato per un motivo, dovevo consegnare due gas che mi sono nati dai barbuti all'inizio anno. Vi lascio una clip video, se li vedete un po' con le consegnate. Non sono tornata mani vuote, perché vedete la clip video. Devo dire che è stato bello fermarci dopo tanto tempo e vedremo un po' in futuro. E niente, spero che vi sia vissuto. Ciao e al prossimo. Io specificherei un'altra cosa. Penso che c'era anche l'altro Lemure. Ah, dai. Parlo da dietro eh, sono quello che sta riprendendo. Allora, mi stanno facendo le riprese. L'altro Lemure mi sta dicendo che mi ha accompagnato lui. Infatti ci siamo andati noi. Eh sì, no, ma la cosa è successa e qui prova a negarlo se sei capace. Allora ha preso, vabbè, quello che doveva prendere. Ma va bene, lo porto in macchina. Stai qui e mi aspetti qui? Io con questi scatoloni, no, con dentro gli animali. Non faccio in tempo a andare in macchina, a tornare. E lui già aveva un'altra scatola in mano. Ho accontentato un po' tutti? Sì, in effetti ha accontentato un po' tutti. E però... Mi sono preso anche una coppia di toltre pezzate. Bellissime. Ah sì, vero. Per farlo magari vedere. Eccole qua, toltre al vecchino. Ho già deposto un uretto. Allora ho messo il nido. Ve l'ho già avuta. Per chi si ricorda magari, ero perso in qualche video. O non... Non ricordo, è finita qua. Ehi. E... Purtroppo ho fatto una brutta fine per questa, a mio parere, dei coppi. Adesso sono qui, scrisoriamente. Ma che abbiano... Molto grande però insomma. Però adesso ci stanno. Poi vediamo di... Fargli un ambiente più grande. Per i coppi. Bene. 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 Io ho finito il mio intervento. Bene. Bene. Alla prossima. Grazie.